Io vorrei anche un po' che la mia presenza significasse forse più di molte altre parole che lo Stato che mi ha con voi non si soprae alla responsabilità di proiettarsi nel passato per confrontarsi con la verità e coltivarne la memoria ma anche di volgere lo sguardo al futuro per contribuire alla speranza perché la memoria e la speranza vivono l'una nell'altra e non sono perite nella strage. Il nostro impegno e il dovere di non dimenticare e di non attenuare lo sdegno sono fondati sul rispetto e sulla solidarietà per le vittime e per i loro familiari ma anche sulla irrinunziabile coscienza collettiva che è alla base del nostro ordinamento repubblicano e dei valori mediante i quali esso si mantiene e si sviluppa.